Salve a tutti ragazzi, bentornati sul vostro canale preferito di vostro argomento Warhammer e altri videogiochi in generale. Iniziamo riscuotendo un po' di ricompense acquisite nella scorsa puntata e andiamo avanti. Niente di che, purtroppo, abbiamo acquisito solamente una cosa, come si chiama, cornice. Salve ragazzi, dovreste andare al telefono. 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 Salve ragazzi, è una telefonata un po' importuna, inopportuna e importuna anche. Allora, andiamo di raffinare l'oggetto. Adesso abbiamo in realtà acquisito anche questa... Questa no, non la vedo, non la vedo, dov'è? Ah no, qui è proprio... Ecco qua. Colpo singolo, revolver a canna con. Guarda ragazzi, io voglio provare questo, se non altro, perché comunque... è di livello abbastanza alto, quindi, boh, testiamo. Ok. Ma non è vero, ci abbiamo perso un po' di... un po' di cose, però vabbè. Ehm, mettiamo danni sui super corazzati. Un po' di... Va bene, dai, prendiamoci questa, vediamo. Facciamo questa partita, questa run, ragazzi. Fretta e furia prima di pranzo. Ehm, così. Purtroppo, molte volte, essere onesti non paga. Perché onesti, ragazzi, io sono veramente onesti. Dire la verità, perché questo è stato... Ho fatto una richiesta di lavoro, e è arrivata una assurda... Ehm, è stato strato, ragazzi... che è stato strato, ragazzi... Ehm, è stato strato, ragazzi... Ehm, è stato strato, ragazzi... Ehm, è stato strato, ragazzi... Ma, ragazzi... Ma, ragazzi... Ma, facciamo l'ultima mia diritta che vogliamo fare una conversazione che questi primi hanno detto che vogliono fare... una... un'anzio... un'anzio che ha mortato. Poi mi hanno detto... Dopo questa cosa hanno dato di me e ha detto ha registrato un video, diciamo, facciamo un video. Un po' cazzo, facciamo un video lì, insomma... e fare un video di rispetto non si sa fare niente. Purtroppo, ragazzi. Purtroppo, ragazzi. Purtroppo, ragazzi. Purtroppo, ragazzi. Purtroppo, ragazzi, sinistro. Tagi, ragazzi. nerves. Eccom surfing Il nostro corso gratuito è gratuito No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sì, sì, sì. BOMBER! WHERE ARE THEY? NO SENSE OF PROTOCOL! SNIPER SLAVE! SLAVE IT! YES! NO! GROW ME! ABOMINATION NEUTRALIZED! A GOOD KILL, PSYKA! SLAVE IT! Uhhh... I'm bad at night. TARGETS IDENTIFIED! WE MAY HEAL HERE! I'M SLAVE IT! I'M SLAVE IT! ARM YOUR SOUP, OR ELSE YOU'LL FIGHT ALONE! Grazie a tutti! 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 No! Grazie a tutti! No! Grazie a tutti! No! 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 Grazie a tutti. 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 Don't hurt me, Cypher. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.